La terapia della gioia e del gusto di vivere. E l'ultimo suggerimento di questo decalogo di consigli veri e autentici che Don Oreste Benzi ci ha dato per educare alla felicità, per essere felici noi stessi ed essendo felici noi stessi, educare anche gli altri. La terapia della gioia e del gusto di vivere. Non mi colpisce tanto quella parola gioia perché tutti miriamo alla gioia. Tutti vogliamo una vita che sia gioiosa, dimenticando molte volte che la gioia vera viene dalle cose autentiche, non dalle cose fasulle, dalle cose che poi lasciano il tempo che trovano. La gioia vera non viene dai soldi. Sì, lo so, molti di voi non la pensano così, ma non viene dai soldi perché i soldi possono finire, non danno la felicità, non risolvono tanti problemi interiori. Con i soldi uno non può comprare la speranza, uno non può comprare la forza di affrontare una malattia, con i soldi uno non può comprare la certezza di sentirsi amati e di amare. La gioia vera viene, per esempio, dall'avere i soldi, ma dal condividere quello che io ho, dal far felice anche gli altri. Perché i soldi di per sé non sono una dannazione, come spesso ho detto, ma è l'attaccamento, l'essere schiavi del denaro, del potere, del successo che mi porta ad essere praticamente schiavo e non felice. Ma se io posseggo e dono, sono un uomo ricco soprattutto di gioia, di generosità, di amore e poi anche di soldi. Dicevo che la parola che più mi ha colpito è educare ad una terapia, usando una terapia della gioia e del gusto di vivere. È il gusto di vivere che mi dà gioia e oggi tanti hanno perso il gusto della vita. Il gusto, cioè il sapore della vita, il cercare il sapore migliore della vita, così come quando ci vogliamo preparare una pietanza, facciamo di tutto perché sia saporita quella pietanza. E così noi dobbiamo fare di tutto perché la nostra vita e la vita degli altri possa essere saporita. E quali sono gli ingredienti? La verità, la responsabilità, la trasparenza, il dono di sé, la generosità, la condivisione, la solidarietà, la relazione con l'assoluto e la relazione con gli altri. Questi sono gli ingredienti per il buon piatto del gusto di vivere. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ci vediamo domani, Padre Pio TV.